Maria! Maria! Ed come? Tu ancora acquistai? Io non sei andata a lavorare! Che non vuole andare a lavorare? Sto male! Ma non lo sta male! Cosa ti è successo? Che è successo? Tu vuoi dire che sto male e che non mi ricordi in piedi? Mi sono sceso sul divano, ho imbrinti e te glielo hai preparata! Te l'ha detto il dottore? no il dottor non l'ho ancora chiamato ho preso il termometro e ho misurato la febbre e c'ho la febbre a 40 40 e fammi vedere il termometro fai ma senza fiducia tu fammi vedere il termometro va bene ma e dai si aspetta e dai e dai e dai fammi vedere ecco ecco io lo sapevo hai 36 e 4 ma è 36 e 4 non lo sai scusa di madonna mia di madonna mia di madonna mia di madonna mia madonna mia madonna mia io sto male